Marco, fai un saluto, Marco, saluto. Premio e foto. Foto diviso. La valletta, scusi, venga. Grazie. Ciao, Marco. Premio, miglior, vecchia gloria. Quest'anno lo assegniamo. Un saluto. Come ci si sente ad aver vinto il premio di capo cannoniere? Fai vedere, Marco. Un saluto. A posto. Pietro Lanti. Pietro Lanti. C'è qualcuno che è lui per rilasciare il premio? Frutti Rio. Vabbè, lo consegneremo. Sto facendo il camera. Premiamo adesso il miglior giovane. Guaglio. Il miglior giovane di quest'anno è Tomas Merle. Oh, merle. Guaglio. Tomas. Tomas. Tomas, non c'è Tomas. Già sta ubriando. No. Come sta, figlio, Tomas? Tomai, acqua doveva tavola. Vieni a qua. Quanto sto? Non c'è Tomas. Andiamo a fare un... Vabbè. Passiamo al prossimo premio che è quello di miglior portiere. Quest'anno il miglior portiere va a Gerardo Bilancia. Un applauso per Gerardo. C'è Gerardo? Grazie a te Gerardo. Almeno tu. Un saluto alla telecamera, Gerardo. Un saluto. Bravo. Bravo. Mario, un saluto al video ufficiale del torneo. Presente su volturara.it. Ok. Allora facciamo il video. Ciao. Ora iniziamo... Gerardo, una affermazione a caldo. C'è Toma. Bo me va. Toma, mannaggia a te, mannaggia. Sembra che una tromba moxie, eh? Vieni qua, vieni Toma. Quindi premiamo il miglior giovane, Thomas Merle. Arrete su Merle. Merle. Ma vabbè, è il pranzo. Un saluto, un saluto. Volturara.it, Toma. Pena, Laura. Chi so? Chi so queste ballette strappone qua? Madonna. Guarda che questa va su volturara.it. Veloce. Un saluto, saluta. Ma questa me la dà un po' Oh, me la dà una borsa. Sì, sì, mo' te la diamo. E ora passiamo? Allora, adesso invece premiamo i giocatori che si sono distinti in un altro modo. Dei premi speciali. Dei premi, tra virgolette, speciali. Il gol più bello lo assegniamo a Lorenzo Iannigro. Lorenzo sta tallando, non salire sul palco. Devi ritirare all'Eden due back snacks senza limone e una pizzetta. Da back snacks. Da back snacks. Premio come portiere con maggior numero di gol subiti. Lo diamo a Massimo Cuciniello. Il fiato di l'ansia con un litro di birra e una pizzetta. Premio a Porto Stà Chiù a questa via. Va a Vincenzo Montanaro. Ridira due back snacks più pizzetta. Sempre da Eden. Il premio ha sbagliato a Porto. Lo assegniamo a Michele Dantino. Anche per lui. Marco, un saluto. Più pizzetta. Next. Next. Premio tutti i pal so i miei. No, non i pali. I pal. Tutti i pal so i miei. Lo assegniamo a Michele Marraffino. Swiss. Li tira un litro di birra più pizza. Sempre all'Eden. Arsh. Non gli serve un litro di birra. Questa c'è un briaco. Ed ora il momento catordico. Catordico? Quinta classificata. Quinta classificata. Eden Bar. Ecco il pubblico di Volturano. Quarta classificata. Memorial Moccia. Agape. Agapella. Tu sei rappresentante dell'Agape. Un saluto da rappresentante dell'Agape. Terza classificata. Roxy Bar. La squadra di Roxy è pregata di salire sul palco per ritirare il premio. Un saluto, un saluto. La telecamera. Ciao. Intanto vorrei invitare la giuria e il presidente di giuria per il risultato. Per una premiazione speciale. Saluto la telecamera. Tutta la squadra. Vai, gliela voglio. Piero. Consegna il premio Laura. Laura e Marisa. Foto di gruppo. La mia medaglia la dedico a Massimo Cucciniello dell'Eden Bar. Forza Roxy. Prego, prego. Un'inquadratura alla coppa del video di Volturara. Volturara.it. Vai, vai, vai. A tutta Volturara. Per tutta Volturara il video. Un saluto. A posto, a posto. Come ti andava? Alimentari, salutate. Saluto. Angelo, è terza. Ce l'hanno fatto. No, puoi passare. Eh, tanto... Tanto... Premiano sempre Laura e Marisa. Al capitano. Foto di gruppo. Capitano, non mi vuole salutare. Tommi. E ora... L'attesissima vincitrice del Memorial 2008. Prima classificata... Arredamenti in campana. Eeeh... E togliamo. Eeeh... Saluto, c'è Vierpre. Di salire sul palco. Consegniamo... Consegnano la coppa Laura e Marisa a Mario. Perché? Perché? Alla macchetta, alla macchetta. Poto di gruppo. C'è Arianto, Anto! Lo sta. Tu? 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 Allora, vorrei naturalmente spendere due parole per il significato di questo torneo. Questo torneo, come sappiamo tutti, è dedicato a una persona speciale, un amico più di un amico, un fratello, almeno per quello che io provo ancora per lui, perché il voto si sente ancora. Si sente soprattutto, non solo nel suo modo di fare, ma anche nella sua voglia che aveva di coinvolgere tutti, di essere un'unica famiglia. E' proprio questo il bello del torneo, lo spirito del torneo è proprio questo. Cioè non deve esserci agonismo tra di noi, cioè agonismo accanito, ma deve essere semplicemente un modo per stare insieme, divertirsi come voleva lui. Tutto qui. E ora vedo Giulia per il premio speciale di salire sul parco. La giuria per il premio speciale. Almeno la valletta, almeno qualcuno. Ma che pelle che c'è Maccuncia stasera. Pietro Pena ormai. Non è il mio fratello, è il mio fratello. No, un litro di bicicletta. No, un litro? Un litro di bicicletta. No, 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 un litro di bicicletta.